E' aperto! Eccoli! Mamma, ho segnato! Ma sei la merenda? Sì! Ma non iniziate senza di noi, chiaro? Ma perché li stai riprendendo? Per partecipare al casting balconi? Basta mandare un filmato spontaneo e divertente. Guardate Irene, farebbe pazzie per il trancetto al cacao. Occhio a Riccardo! Adora il mix max. Invece Aurora preferisce lo snack al latte. Ma vedo che piacciono anche ad Andrea. E pensate che io neanche le conoscevo le merendine balconi. Sono buonissime, fatte solo con ingredienti di qualità. Proprio come i wafer balconi. Provali! Mamma, allora! Conti in fragrante? Sono buonissimi! E soprattutto qui di grassi idrogenati. Non ce n'è nemmeno l'ombra. Ah, e costano anche poco. Come fanno ad essere così convenienti? Semplice. Balconi fa scelte intelligenti. Risparmia sul superfluo e dedica tutte le sue risorse alla qualità delle materie prime. Le uova, per esempio, sono fresche e tutte di origine italiana. Ehi ragazze, guardate! Lo sapevo! La tentazione del Mix Max era troppo forte per Riccardo. È la sua preferita, sia a colazione che a merenda. No, ma questa scena è perfetta per il concorso! Come funziona? È tutto spiegato sul sito Balconi. Basta fare il video e caricarlo. Tra tutti i partecipanti verranno selezionati tre bambini che parteciperanno al casting del loro prossimo spot. E in più verranno estratte cento forniture annuali. Ho già la vittoria in pugno. Abbiamo, vorrei dire! Balconi! Mamma che vuoi!